guardate che mi è successo alle labbra, guardate le mie labbra cazzo, cazzo sto andando al pronto soccorso, non so che mi è successo mi sono gonfiato tutto, sono pieno di macchine e le labbra, mi sono gonfiato all'improvviso così senza stiamo arrivando, sto correndo al pronto soccorso, sto preoccupato alè, vieni un attimo vi prego, vado a venire alè lo potete far passare? vi prego alè grazie